Pur senza bonus all'attivo, la prestazione di Mazzitelli in Frosinone-Empoli per il team Pagelle di Fantacalcio.it vale 7 quest'oggi perché il capitano del Frosinone ha fatto un'altra prestazione piena al rientro da titolare, nel senso che è stato sempre nel vivo del gioco per tutti i 90 minuti e nella ripresa ha tirato fuori dal cilindro due colpi dei suoi, due conclusioni dalla distanza che hanno colpito prima un palo interno sullo 0-0 e poi addirittura un incrocio dei pali sul parziale 1-0. Molto sfortunato Mazzitelli avrebbe meritato miglior fortuna ma se non altro porta a casa un bel 7 in Pagella.